Poco prima di partire per Fatima, dove canonizzerà i due pastorelli veggenti, Francesco e Giacinta Marto, il Papa ha incontrato nell'auletta a Tigua, all'aula Paolo VI, i partecipanti al convegno della specola vaticana, riuniti in questi giorni per racconfrontarsi su questioni che interpellano la coscienza di tutti, l'inizio dell'universo, la sua evoluzione, la struttura profonda dello spazio-tempo. Il Pontefice ha sottolineato l'importanza non solo scientifica, ma anche teologica e spirituale di tali tematiche, ha invitato al confronto e al dialogo tra scienza e fede, rispettando però, come già faceva Sant'Omaso d'Aquino, gli ambiti di competenza per evitare di generare cortocircuiti che potrebbero nuocere ad entrambe. Quindi ha rimarcato come l'esistenza dell'universo, che provoca sempre stupore e meraviglia nell'uomo, ma anche senso di finitezza, non sia frutto del caos o del caso, ma della sapienza divina che è all'origine di tutto. Non bisogna mai aver paura della verità, né arrocarsi in posizioni di chiusura, ma accettare le novità delle scoperte scientifiche in atteggiamento di totale umiltà. Camminando verso le periferie della conoscenza umana, si può veramente fare un'esperienza autentica del Signore che è in grado di colmare il nostro cuore. Grazie. 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 Grazie.